Dal Vangelo secondo Luca A queste parole Ella fu molto turbata E si domandava a che senso avessi Un saluto come questo L'angelo le disse Non temere Maria Perché hai trovato grazia presso Dio Ed ecco Concepirai un figlio Lo darai alla luce E lo chiamerai Gesù Sarà grande E sarà chiamato figlio dell'Altissimo Il Signore Dio Gli darà il trono di Davide e suo padre E regnerà per sempre Sulla casa di Giacobbe Il suo regno non avrà fine Allora Maria disse all'angelo Come avverrà questo Poiché non conosco uomo Le rispose l'angelo Lo Spirito Santo scenderà su di te E la potenza dell'Altissimo Ti coprirà con la sua ombra Perciò Colui che nascerà sarà santo E sarà chiamato figlio di Dio Ed ecco Elisabetta tua parente Nella sua vecchiaia Ha concepito anch'essa un figlio E questo È il sesto mese per lei Che era detta sterile Nulla È impossibile a Dio Allora Maria disse Ecco la serva del Signore Avvenga per me Secondo la tua parola E l'angelo Si allontanò da lei Grazie a tutti